Da quasi una settimana i semafori all'incrocio tra la via Monsignor Ficarra e la via Giglia di Canicattì sono in tilt. Giallo, 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 lampeggiante. E gli automobilisti costretti a fare da sé nel caos più totale. In circostanze come queste una buona amministrazione pensa a mettere un vigile urbano in servizio nella zona del disservizio. Ma a Canicattì no, questo non accade, questo non può accadere, perché qui quando una cosa si rompe ci vuole del tempo per sistemarla. E a volte non si sistema nemmeno. Abbiamo chiesto spiegazioni all'assessore Massimo Muratore sui motivi che hanno mandato in tilt l'impianto semaforico. E ci ha risposto che con il caldo la centralina va in tilt. Adesso però, anche se è vero che fa caldo e che le temperature sono elevate, ma è possibile dire che con 36 gradi i semafori vanno in tilt? Adesso, ammettiamo che sia così, ma non è possibile trovare soluzioni alternative. Ma come fanno in altre città, soprattutto quelle del nord, dove i semafori sono funzionanti anche con 40 gradi? E poi, perché i semafori di via Monsignor Ficarra e incrocio con via Onorevole Giglia si rompono e quelli di via Giglia all'incrocio con via De Gasperi funzionano regolarmente? È possibile che ci siano semafori che resistano al sole e al caldo ed altri che siano più deboli e cedano? Al di là di ogni ironia, il sindaco Ettore di Ventura pensi a correre ai ripari prima che accada qualcosa di grave, qualche brutto incidente. Ed a proposito di viabilità, per restare in zona, torniamo ancora una volta a segnalare all'amministrazione comunale la pseudo-rotatoria di via Giglia, quella che tutte le città europee ci invidiano e stanno invitando e inviando i propri esperti a vedere come è stata realizzata. Perché ci vuole estro e fantasia ad immaginare una rotatoria con i bidoni, che non sono d'acqua perché qui c'è anche la crisi idrica, un'opera di grande ingegneria stradale che tutto il mondo ci invidia, fatta realizzare dalla precedente amministrazione è rimasta così per volere di continuità della giunta del sindaco di Ventura. Prendiamola a ridere, corinoria, ma adesso facciamo i seri. Signor sindaco, quando sistemerete i semafori? Signor sindaco, avete intenzione di sistemare la rotatoria di via Giglia? Ce lo dica, ci risponda signor sindaco perché i cittadini attendono risposte.